Ciao, io sono Dario dell'Immobiliare Dam. Oggi la proposta immobiliare che voglio proporvi in vendita si trova a San Lazzaro, quartiere a ridosso delle principali strade di comunicazione. Il condominio è uno stabile del 96, composto da due scale, da 60 appartamenti l'uno circa, ampio cortile condominiale, in questo caso l'appartamento ha il suo posto auto esclusivo di proprietà. Si trova al secondo piano servito da ascensore con riscaldamento autonomo. L'appartamento è stato rinfrescato delle finiture recentemente, perciò caldaia recente, tinteggiature fatte, l'appartamento è in ordine per essere o affittato o abitato direttamente. Bene, non ci resta altro che andare a vedere quello che è l'immobile che ripeto si trova al secondo piano e guarda verso la chiesa l'Azzaro. Ultimo particolare dello spazio condominiale, ben tenuto. E niente, andiamo a vedere di cosa si tratta. Eccoci qua. Classico mini appartamento, tenuto molto bene. Ricordo che siamo a secondo piano con ascensore. Questa qui è la zona giorno unica con l'angolo cottura e soggiorno insieme. A fianco abbiamo il bagno, in questo caso cieco con la vasca, terrazzo abitabile, in questo caso siamo sul retro, con una bella vista panoramica dal perde. E questa è la camera matrimoniale. Eccola qui. Serramenti in metro camera, riscaldamento autonomo, la caldaia è nel terrazzo, è stata cambiata un paio di anni fa, perciò è recente e subito funzionante. Bene, da Salazzaro è tutto. Per questa nuova offerta immobiliare, vi ricordo a tutti, è in vendita. Secondo piano con ascensore posto auto. Per ulteriori dettagli visitate pure il nostro sito immobiliaredam.it e vi aspetto. eventualmente per eventuali visite. A presto, ciao!